E' un saluto, e non cercare di ripetere, per ogni avvenienza se hai bisogno di me puoi chiamarmi questo numero, no, no, io non so, 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 non so. Non so, non so, non so, non so, non so. Non so, 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 non Oh, sì, sì. È la terrenale di una volta, sai, è più di sei anni. Non è più un appartamento qui, ma un'officina. Ti senti pronto? Sì. Sì, però sarà obbligato ad agire il profisato. Spero che i tuoi piani siano esatti. Ah, ce l'hai la diapositiva dell'ufficio? Sì. A causa della sirena dovrai agire a mezzogiorno, domani l'ideale, giovedì il forzimento di libertà. Ma attento, ridarti solo della diapositiva è un rischio. Le telecamere ritrendono l'ambiente ogni tre minuti. Non ti lasciano molto tempo. Comunque hai una fortuna, il proprietario ha fatto fare un'ultima verifica prima di partire. E lì ci sono solo i domestici. Che età hanno? 25 anni. Il loro appartamento è a Redeschaussee, non si muovono mai di lì. Non preoccuparti, l'ho previsto. Sono messo del tempo, ma ho trovato la strada. Ah, quel sistema per andare all'estero è sempre valido, perché immediatamente dopo il colpo io vado a partire con l'Oranza. Con l'Oranza? Sì. Puoi farlo quando vuoi. Un mio amico che fa servizio postale per una compagnia privata ti imbarcherà a sensirle e cose. Volo di notte fino a Lisbona senza problemi, soprattutto niente trovata, però costa un milione, d'accordo? Certamente. Dove ci vediamo? Beh, diciamo domani a sensirle e cose alle 5. Ti ho trovato una macchina. E' di sotto nel box. Beh, diciamo domani a sensibili. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.